Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la prova che richiede di leggere uno dei diari di Umbra, quindi non dovete trovarli tutti. Il diario potete recuperarlo a Crescent Island, vicino all'avamposto Golden Sands, quindi non potete sbagliarvi perché è fatto tipo a luna, vedete? Dovete recarvi su quest'isola e esaminare il diario di Umbra. Ci sono diversi diari che potete trovare, ma ve ne basta uno per completare la prova. Appena arrivo sull'isola vi mostro la sua posizione. Quindi ricordatevi Crescent Island. Fermiamo la nave. Il diario si trova praticamente qui, molto molto semplice da trovare. Quindi arrivate sull'isola e raggiungete la spiaggia. Dove c'è l'ingresso per la grotta troverete il diario, quindi lo leggete e la prova è completata. Grazie. 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 Grazie.